Edder. Mech. Pallister. La 41enne Sara Buratin, potrebbe essere stata accoltellata a morte non distante dalla stazione dei carabinieri. L'omicidio si è consumato all'interno delle mura domestiche dove vive sua mamma. La donna lascia una figlia di 12 anni mentre non ci sono tracce del compagno, Alberto Pittarello. È caccia al killer, abovolenta, comune tranquillo, la popolazione è sconvolta per la macabra notizia. Sulla zona del delitto si trovano ora i carabinieri del nucleo investigativo che stanno cercando di far luce sull'accaduto. Il compagno di Sara Buratin, Alberto Pittarello, è irreperibile, ma la sua auto è stata trovata nel fiume. Nel tardo pomeriggio l'auto del compagno di Sara Buratin, Alberto Pittarello, è stata ritrovata a Camolin, frazione di buvolenta, nel fiume Bocchiglione. Dell'uomo, 39 anni, non c'è però ancora nessuna traccia. I due erano separati, erano persone normalissime, il comune non aveva ricevuto mai nessuna segnalazione, non si sapeva neppure che si fossero separati e che lei vivesse dalla madre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.